I dati sono ISTAT. Nel 2018 abbiamo avuto un tasso di natalità che era identico a quello di 150 anni prima. Sempre dai dati ISTAT nel 2050 non avremo un ricambio generazionale. E se vogliamo continuare sempre con dati ISTAT, abbiamo praticamente negli ultimi sei mesi del 2021 una diminuzione delle nascite che è quasi del 20% in meno negli stessi mesi dell'anno scorso. Quindi la proiezione non è causale, è casuale. La proiezione in diminuzione è proprio sistematica. È chiaro che c'è un problema strutturale nel senso assoluto. In tutto questo sicuramente il Covid ha avuto una sua parte. Noi abbiamo coppie che hanno iniziato il percorso l'anno scorso e che poi per paura del Covid o per paura comunque di ciò che può succedere dopo, dell'incertezza, hanno rinviato. Rinviare sempre una cosa in uno che cerca figli, in una coppia che cerca figli, non è una cosa positiva. Perché questo non fa altro che aumentare il peso della denatalità. Sappiamo tutti che da 35 anni una donna perde il 50% della propria capacità riproduttiva. E quindi rinviare è sempre un fatto negativo quando lo puoi fare. È chiaro che siamo anche in una società in cui ha grossi problemi economici, incertezze, le politiche familiari che pur si stanno muovendo, però sono sempre ancora molto poche. Cominciare che in Sicilia ci sono pochissimi asili, per esempio. Se una coppia è giovane, fa un figlio, non sa chi lasciarlo, mi deve perdere il lavoro, eccetera. La PMA incide in circa il 3%, quindi è qualcosa che non risolve chiaramente i problemi della denatalità, ma ha un peso non indifferente. Lo stato dell'arte vede ancora purtroppo degli ostacoli nel nostro paese. È stata inserita nei LEA come noto, ma manca ancora il passo che la renda effettivamente accessibile a tutta la popolazione. manca la quantificazione, la valorizzazione, in termini proprio economico-finanziari, delle varie prestazioni, perché possa effettivamente essere una prestazione a cui accedono le coppie, a prescindere dal loro status sociale, dal loro status economico in generale. Quindi su questo il Ministero è già in fase avanzata di lavorazione, ma noi faremo di tutto perché la risposta sia rapida ed efficiente, perché effettivamente sia un diritto godibile. Non stiamo parlando di una questione morale, stiamo parlando di un diritto delle persone, il diritto alla maternità e il diritto alla paternità. Sono milioni gli italiani che chiedono di poter accedere a queste cure e purtroppo c'è una discriminazione, la discriminazione è quella economica. Chi ha soldi per andare nelle strutture private può sicuramente accedere a questo diritto, chi non ha soldi non può accedere al diritto alla natalità e quindi alla paternità e alla maternità. Noi riteniamo che come più Europa dobbiamo ancora con più forza chiedere al Ministro della Salute di applicare tutti i decreti per avere i livelli esistenziali di base.